Quando vado a trovare nuovi clienti e faccio l'analisi dei punti deboli delle loro società, spesso trovo una serie di problemi sul gestore di telefonia e sulla connettività. Ad essi si aggiungono lentezze nel lavoro da svolgere, malumori dei dipendenti e soldi spesi in famose aziende che spesso non hanno un servizio clienti adeguato al loro nome. E quindi quali sono i motivi per cui non si cambia i gestori di telefonia? Alcuni rappresentano il vero motivo anche se poi analizzati sono un alibi molto labile. Vediamoli insieme. Uno dei primi motivi è il costo di switching. Si pensa che cambiare operatore potrebbe comportare costi iniziali significativi come ad esempio la sostituzione di dispositivi o l'adattamento di infrastrutture esistenti. In realtà ad oggi non è più così. Il passaggio è indolore e i provider seri, vada bene ho detto quelli seri, si occupano in prima persona del passaggio dal vecchio al nuovo. Come secondo punto ho messo paura di rimanere senza servizio. E se rimango senza linea per qualche giorno come faccio a lavorare? Questa è una domanda che spesso mi sento dire. La realtà è ben diversa, il cambio è quasi sempre indolore. Terzo punto, contratti a lungo termine. Molte aziende stipulano contratti a lungo termine con gli operatori di telefonia. Questi contratti potrebbero avere penali per la cessazione anticipata rendendo meno conveniente il cambiamento. Alcuni provider seri ed etici trovano una soluzione per colmare questo gap e si occupano della burocrazia relativa dal passaggio dal vecchio al nuovo. E poi c'è un altro punto importante che io denomino reputazione dell'operatore. Ebbene se l'operatore attuale ha una buona reputazione per il supporto clienti, la copertura di rete e la qualità del servizio, l'azienda potrebbe preferire di evitare l'incertezza che potrebbe derivare un cambio. Questo è il motivo per cui in molti, pur trovandosi male con il vecchio servizio e capendo che la pubblicità sui media non sono confermate dalla loro esperienza utente, decidono di farsi del male da soli. Come ultimo punto ho messo comodità e familiarità. La semplice abitudine e la familiarità con l'operatore attuale potrebbero essere ragioni sufficienti per non voler affrontare il processo di cambiamento. Allora io finisco la mia puntata con una domanda. Allora perché vi lamentate se non fate niente per cambiare?